C'è anche Viarcovo dalle palle di questo terzetto. De Agostini gol! Gol di De Agostini! Sinistro secco a pelo d'arba, angolato. De Agostini sblocca la situazione e verete l'entusiasmo dei nostri connazionali. Gol di Gigi De Agostini al ventitresimo del secondo tempo. Rivediamo il suo sinistro fiondato. Nulla da fare per Brunner. De Agostini porta in vantaggio l'Italia. In effetti è un risultato meritato soprattutto perché nel corso di questo secondo tempo gli azzurri si erano più volte minacciosamente portati dalle parti di Brunner. Ora si prosegue. Marocchi. Zonadoni. Grazie.